Genitori a Palazzo Cavallo e bambini in Piazza della Libertà. È tutto pronto per il prossimo 9 maggio, giorno in cui le famiglie incontreranno l'amministrazione comunale per parlare del futuro dell'asilo. Auspichiamo che potrà partecipare anche il sindaco Alessandro Ghinelli perché noi riteniamo che il tema della scuola del futuro dei bambini sia un tema centrale per ogni politica del territorio. E proprio sotto le finestre del Palazzo del Comune prenderà vita un flash mob organizzato dalle famiglie di Matrignano che hanno rivolto l'invito a tutta la cittadinanza. Siamo di questa occasione per invitare anche tutti i cittadini, altre associazioni e comitati che hanno a cuore il destino della scuola pubblica e anche delle scuole decentrate nel territorio. Speriamo che il 9 maggio sia un'occasione di festa da celebrare tutti insieme in Piazza della Libertà davanti al Palazzo Comunale, luogo in cui ci ritroveremo alle 17.30 per realizzare un flash mob proprio in onore dei bambini e del concetto di democrazia partecipata. La taglia delle famiglie di Matrignano passa anche attraverso una raccolta firme, già oltre 2.000 coloro che hanno firmato la petizione. Il gran numero di persone che hanno partecipato alla raccolta firme sta a significare appunto che tutta la comunità ci sta vicino, quindi per questo vogliamo festeggiare il 9 in Piazza della Libertà con tutti coloro che ci saranno vicini e che ci sostengono tuttora.